Gli accordi che andremo ad utilizzare per certe notti sono fondamentalmente quattro. L'accordo di Sol, l'accordo di Do, l'accordo di Re e l'accordo di Mi minore. Per quanto riguarda l'accordo di Sol, le note che andremo a suonare saranno Sol, Si, Re. Le dita che utilizzeremo saranno il quinto, il terzo e il primo dito. Quindi il Sol lo suoneremo con il mignolo, il Si con il medio e il Re con il pollice. Contemporaneamente, perché un accordo suona contemporaneamente. L'accordo di Do maggiore invece sposteremo solamente il secondo e il primo dito. Quindi manteniamo il mignolo sul Sol, mettiamo il secondo dito, l'indice sul Do, il pollice sul Mi. E questo è l'accordo di Do, Sol, Do, Mi. Poi l'accordo di Re invece avremo il mignolo che tocca il Fa diesis, il terzo dito medio che va sul La e il pollice sul Re, contemporaneamente con la Re. Poi l'accordo di Mi minore che tocca le dita. Mignolo che va sul Sol, medio che va sul Si e il pollice che va sul Mi. Ecco, questi sono gli accordi che andremo a suonare su certe notti. Grazie.